La comunità islamica di Venezia è venuta a dargli il benvenuto. Chi ha chiuso Moschea? Americani? Americani? No, no, no. Sionisti. No, no, per carità. Chi ha chiuso Moschea? Una donna. Io da qui non me ne vado, cara. E l'ha trasformata in un negozio parrocchiere. Un negozio unisekis? Uomini e donne insieme. Mordeo mai visto. Che possiamo fare? Portiamo tanti sassi per tutti. Una lapidazione. Ma fantastico. Aspetta, aspetta. Oddio. No, no. Adesso dobbiamo diventare tutti più leggeri. Mangia un datere al giorno e basta. Dobbiamo punirla, cancellarla per sempre. dalla faccia della terra. Lo capisci o no? Fatelo un staffa. Ho capito cosa dobbiamo fare. Sì, sicuro. Ho stregato anche te. Vogliamo sapere come stanno gli ostaggi? Non faccia sciorchezze. Mamma, arrivo! Mamma, arrivo! Mamma, arrivo! Mamma, arrivo! Grazie per la visione!